Pescara premia gli imprenditori del territorio, questa mattina la quarta edizione dell'imprenditore ideale, iniziativa curata dall'Agenzia Promozione Spettacoli e dall'Associazione Culturale Ulisse 2000, con il patrocinio dell'amministrazione provinciale. Premiati Serafino Menzietti, dei centri acustici MAICO, Marcello Zaccanini, dell'omonima Casa Viti Vinicola, Angelo Di Nardo, dell'Istituto di Vigilanza Aquila SRL, Federica Chiavaroli, delle scuole di recupero MAIOR e Massimo Ranieri, della Ecolan Smaltimento e Rifiuti. Consegnato anche un premio alla carriera, quella di Bruno Di Fabio, che ha speso una vita nel settore delle vernici. È una vita che riguarda 70 anni di lavoro, sui 94 che attualmente ho. E lei ha fatto anche un po' la storia del tessuto economico abruzzese, uscendo anche dai confini regionali. Sì, tanto, non solo regionali, non solo italiani, ma anche esteri. Quindi perché vendevamo anche all'estero, io ho fatto molti viaggi, sia in Kuwait, in America, in Egitto. Di Fabio è conosciuto anche per essere un appassionato di basket. Per molti anni è stato presidente dell'Amatori Pescara. L'ho fatto io, la squadra totale, e l'ho seguita per molti anni, effettivamente, con sponsor anche importanti. Oggi chi finanzia vuole molta pubblicità e vuole apparire sul mercato, mentre quello nostro allora era più una funzione di giovani che riuscivano a stare in avanti dentro alla categoria. Grazie. Grazie. Grazie.